Tu hai decisa, amore? No, devo vedere ancora quello che c'è qua. Oh, guardiamo il giacca. Perché io ricordo benissimo come a Modena era più bella giacca nel mondo. Ma era sempre persone rossi, mi sembra. No, 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 lì erano da napolese. Ciao a tutti. No. No. A Modena era più bella. Questo è come doppio ganger. Eh no, eh no, eh no, no, no. Uno. Devi stare all'ottacca. Oh, guarda che carino. Dopo, dopo io attraverso qui. Sì, cominci. Io vado a aspettarti un po' più dove c'è il bar un po' più avanti. Oh, bene. Allora. Eh, vittinezza di cosa. Eh, guarda che bar. Babba, babbita. E questo bar a te non piace? No. No, però è una persona di un po' più potenzione. Ok. 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 Allora, tu hai deciso, bar? No. Ancora no? Guarda, è qui pieni di bar. Va bene. Io vado. Io voglio vedere se trovo qualcosa di qua. Tu fai il tuo giro, poi dopo ti chiami. Dopo ci ritroviamo qui, va bene? Sì, va benissimo. Sì, andiamo libero. Va bene. E noi, e noi, proviamo a attraversare questa strada. Un po' sembra l'arco in Valonia. Un po' sembra l'arco in Valonia. E qui, va bene. rinascimento niente interessante guardate che bello me la faccio vedere è come di solito belle ragazze avanti non c'è il nome non c'è il nome neanche qui saldi saldi andiamo a guardare avanti cosa lì? cosa lì? non c'è il solo non c'è l'imagine non c'è il molto che ne esploi polca Tre papi, pizzizzatore, Ludovica Fiore, Mediterranea e Paradiso. Opera in bronzo. 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 Opera in bronzo.